Ciao e benvenuto in questo nuovo video di Intanto in Thailandia Una spazzina è diventata famosa dopo che una foto di lei con addosso imbragato il suo cane da compagnia mentre spazza le strade di Bangkok è diventata virale su Facebook La foto rappresenta Mazda, questo cagnolino meticcio di un anno che è un incrocio fra un poodle e uno shih tzu mentre dorme imbragato nel giubbotto da spazzino mentre la proprietaria fa il suo lavoro di spazzino indisturbata fra le strade di Bangkok Titi Rat Kewaram, di 28 anni, la proprietaria di Mazda ha dichiarato che aveva chiesto al proprio ragazzo di regalarle un cane da compagnia Il ragazzo ha accettato a patto che lei portasse sul lavoro il cane La signora Titi Rat ha mantenuto la promessa e ormai più di un anno che va a lavorare portandosi il cagnolino sulla schiena imbragato in un zaino Negli ultimi anni il portare il proprio cane al lavoro è diventata una tendenza molto popolare in Thailandia soprattutto in quelle aziende con orari particolari che vedono la politica dog friendly una maniera particolare per alleviare i fastidi dei dipendenti Bene, questa notizia finisce qua, ci vediamo al prossimo video Ciao! 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 Ciao!